Ma la sorpresa non fu tutta qui. Due mesi dopo, quando arrivano alla capitale francese, lo scrittore greco ha preso contatto con alcuni di coloro che avevano firmato l'appello e scoprì che nessuno sapeva di essere stato tra i firmatori. Fino a che durà, mi sciolse ogni dubbio. In sostanza, tutti loro avevano lasciato una delega in bianco alla coppia, Jean-Paul Sartre e Simone de Beauvoir. Quando Sartre e Consorte decidevano di protestare per qualcosa, il loro intervento era seguito automaticamente dalle firme delle altre 68. Basilicos, almeno, ha avuto il coraggio di raccontarla, nonostante di sgarzarci su. Dalla busta tirò fuori anche una lettera di Folcoquilici e un'inserzione a pagamento pubblicata il 18 maggio del 97 sul manifesto. Nella lettera scritta nel 91, scrittore e documentarista famoso per le sue opere sul mare, racconta di aver appena scoperto la sua firma tra quelle degli 800. Cara signora, ci tengo a dire che non sono io, ho la sensazione che si tratta di qualcun altro, o che sia stata apposta alla mia firma senza interpellarmi. Anzi, vorrei che lei mi credesse e mi dolorai molto per l'assassinio di un uomo di coraggio. Il ritaglio di giornali, invece, arriva da chi stava sull'altra fronte. È un breve comunicato preparato in occasione del 25esimo anniversario della morte di mio padre. In fondo ci sono undici firme, tutti gli ex esponenti di prima pera di nata continua. L'anniversario di quel delitto per cui i nostri amici, Adriana Soffro, Viglio Bonpressi, Giorgio e Peter Stefani, che sappiamo innocenti, sono detenuti. Noi, che con loro abbiamo in passato condiviso idee, parole e comportamenti, sentiamo il dovere di riconoscere che Luigi Calabrese, prima di essere ucciso, è stato oggetto di una campagna politica e di stampa, che ha travalicato i limiti di una pura decisa contestazione, e che ha suscitato verso di lui sentimenti di odio, contribuendo a creare un clima che ha portato al suo assassino. Quella campagna e quei sentimenti non possono essere giustificati, né oggi né allora, nemmeno dal doveroso impegno, nostra ideata intesa a denunciare gli abusi compiuti nelle indagini sulla strage di Piazza Fontana e a pretendere la verità sulla morte di Giuseppe Pignagli. Non accusanti l'atteggiamento con cui da molti di noi fu accoltare la notizia dell'uccisione di Luigi Calabrese, non cuspesa la parola della 건강issima e non carbohydrate, uniforme